Sì, siamo molto contenti, anche gli imprenditori comprendono che questo è utile anche a loro. Abbiamo tanti artigiani che si sono messi a disposizione, più di 20, di vari settori, di vari lavori, che portano l'entusiasmo degli artigiani, portano la voglia, portano tutto quello che noi abbiamo dentro, come diceva prima la professoressa, il cuore, il cuore artigiano è qua.